Nel giorno della festa non ha voluto, almeno in maniera eclatante, mostrare il suo malumore, ma adesso, a distanza di qualche giorno dalla firma sul CIS, apposta dal Premier Giuseppe Conte e dai sindaci dei 91 comuni coinvolti, nella cerimonia organizzata in prefettura a Campobasso, il governatore Donato Thomas sfoga la sua rabbia, anche se in maniera british. Non gli è andato giù che la Regione abbia fatto sostanzialmente da comparsa in tutta la vicenda e allora, alle viste, c'è una modifica della programmazione per accontentare i centri esclusi da quello che è l'unico contratto istituzionale del Paese che riguarda l'intera Regione. Non solo, Thomas è tornato alla carica su strade e sanità. A Conte lo ha detto poco prima che se ne andasse. Servono fondi per le infrastrutture e stop al commissariamento. Laddove una Regione come la nostra viene valutata con il LEA a 180, che è un buon livello, con poche carenze che possiamo rimuovere in maniera anche immediata e laddove abbiamo la capacità come Regione di coprire il nostro disavanzo dell'ultimo anno l'è preciso che l'ASREM ha chiuso in pareggio, mentre il sistema Morise ha chiuso con un disavanzo di 15 milioni e 700 mila euro, coperto integralmente con risorse del bilancio regionale. Non abbiamo più bisogno del commissario. Siamo capaci di fare i compiti che il Governo ci ha assegnato da soli. A cosa ci serve un commissariamento che non ancora ci dà il piano operativo straordinario? Parla di bozza e mi sembra la raba fenice. Tutti che esiste lo sanno tutti, ma dove sia nessuno lo sa. Infine la ZES, zona economica speciale adriatica, che interessa la Puglia e il Molise, istituita anche questa da Conte. Toma ha voluto replicare alla consigliera regionale del PD, Micaela Fanelli, che nelle scorse ore aveva accusato la Regione di non aver ancora delimitato con precisione le aree interessate e di non aver dato indicazioni su quali imprese si insedieranno. Abbiamo individuato precisamente tutte le particelle. Qualche lotto che non è frazionato lo abbiamo concordato con l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo concordato le modalità con cui attribuire al momento opportuno il credito d'imposta su quell'otto. Non solo. Noi abbiamo redatto un piano strategico assieme alla Puglia. Il piano è unico. Parte Molise, parte Puglia. Non solo. Io sono stato nominato coordinatore delle istanze sulla semplificazione di tutte le regioni che attuavano il decreto ZES e abbiamo prodotto, il Molise ha prodotto un documento molto apprezzato dall'ex ministra Lezzi. Le dirò di più. Ci siamo inventati la riserva ZES, come la chiamo io, cioè su 516 ettari di aree, zone economiche speciali. 100 ettari circa. Non le abbiamo allocate sui lotti. Ce le siamo riservate. All'occasione, nel momento in cui fuori dai nuclei industriali aziende volessero istituire complessi industriali, noi allocheremo su quei lotti la riserva ZES.